Arbusti cresciuti negli alve, i canali presenti nelle cartografie ma completamente spariti dalle immagini satellitari. Un generale stato di abbandono rilevato in ben 5 province pugliesi su 6. A lanciare l'allarme è Confagricoltura che ha presentato un dossier relativo ad alcune aree agricole del territorio regionale, distribuite tra Bari, Labatt, Brindisi, Lecce e Taranto, esattamente le aree di pertinenza dei consorsi di bonifica commissariati. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni, in molte di queste aree le manutenzioni dei canali non avvengono probabilmente da anni. In buona parte invece il mancato intervento diventa causa di allegamenti nei campi coltivati a danno degli agricoltori dei terreni interessati. Come se questo non bastasse c'è anche la beffa, ai consorziati continua comunque ad essere richiesto il pagamento del tributo 6,30 relativo proprio a questo tipo di attività. Luca Lazzaro di Confagricoltura Puglia ha chiesto alla regione di prendere immediatamente i provvedimenti per ristabilire una situazione di normalità. Si tratta di opere straordinarie. Il proprietario di questi canali è la regione Puglia e la regione Puglia deve intervenire su questi canali. Non può farlo il consorzio di bonifica a carico solo esclusivamente dei consorziati, che purtroppo oggi sono solo gli agricoltori, perché il piano di classifica è stato fatto all'epoca molto molto male. E per questa ragione oggi la regione Puglia deve intervenire in maniera importante su tutta questa partita. Lo deve fare urgentemente. Il proprietario di Confagricoltura